E ora andiamo a Cervia, nella base dell'aeronautica, dove atterrano e decollano i mezzi di soccorso. Di salvataggi. Le vittime salgono a 13. L'aeronautica militare ha tratto in salvo 320 per storia. Le vittime salgono a 13. Le vittime salgono a 13. Le vittime salgono a 13. Le vittime salgono a 13.